Aveva acquistato case e terreni con i soldi e proventi di borseggi e furti commessi a Venezia per un valore totale di circa 200.000 euro, beni sotto sequestro dal 22 maggio scorso da parte della Polizia Anticrimine di Venezia su disposizione dell'autorità giudiziaria. La ladra, una giovane donna, è stata inoltre sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con durata di un anno e sei mesi, sorveglianza che prevede la non frequentazione di soggetti pregiudicati, la ricerca di un'occupazione stabile con il rispetto degli orari di permanenza nella propria abitazione. Le indagini hanno dimostrato come i soldi utilizzati per l'acquisto dell'immobile del terreno fossero il frutto di una lunga serie di reati contro il patrimonio e compiuti a partire dal 2017. 17 in totale tra scippi e furti principalmente solo a Venezia ma è probabile che ne abbia messi a segno molti di più e non denunciati. Tre modus operandi della borseggiatrice, la famosa tecnica dell'abbraccio e altri stratagemmi per derubare le vittime di oggetti orologi di lusso. Una parte delle azioni criminali sarebbero avvenute all'interno dei negozi. In alcuni casi la borseggiatrice avrebbe anche minacciato le persone presenti per indurle a non testimoniare contro di lei. La donna non risulterebbe censita nelle banche dati dell'Inps né in alcun modo percettrici di redditi legittimi. A ulteriore conferma che il denaro a sua disposizione proveniva da attività appunto illecite.